pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici ciao e benvenuto alla nuova puntata di pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale io sono francesco posati al microfono autore e voce del podcast dall'altra parte del monitor c'è marco pennacchini designer del suono e curatore della rubrica pct digitale dove potrai ascoltare news sul mondo digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico spero che ti sia piaciuta e abbia trovato utile l'ultima puntata sulla sicurezza informatica ai tempi della mail la puntata 34 ormai la sicurezza informatica deve essere percepita come un fattore vitale per tutti ce lo rilevo nei numeri il cyber crimine fa 12 vittime al secondo e un milione di vittime al giorno in tutto il mondo produce centinaia di miliardi di danni blocca servizi essenziali di fronte a questi le aziende e gli studi professionali sono impreparati perfino a definire le strategie minime di contrasto e i pericoli maggiori provengono proprio dalle nostre care mail per la cronaca da sabato primo ottobre comincia il mese europeo dedicato alla sicurezza informatica ma la puntata scorsa è stata anche importante perché ho annunciato la mia collaborazione con il portale di risorse legale avvocato andreani punti tema di questa puntata è ripercorrere le puntate precedenti per presentare ad ampio raggio gli argomenti del podcast che finora ho trattato anche i nuovi ascoltatori per gli ascoltatori storici invece sarà occasione per ripercorrere insieme questa avventura ma prima di cominciare ti ricordo a te che mi stai seguendo dai vari canali è aperta la possibilità di sostenere il podcast tramite una recensione a 5 stelle su itunes se sei utente apple o una condivisione nella tua rete sociale della puntata che stai ascoltando oppure finanzia il crowdfunding all'intero podcast su padron.com slash fposari o le pubblicazioni delle singole puntate tramite la pagina paypal.me slash fposati slash 5 le grandi azioni iniziano sempre dai piccoli gesti a te la scelta di come contribuire al podcast per lasciare insieme un segno un segno digitale iniziamo nella puntata 17 am accord ho ripercorso le prime 15 puntate del podcast in cui descrivo l'evoluzione in bit degli avvocati italiani di fronte al processo telematico e al mondo digitale se tu sei un nuovo ascoltatore ti consiglio di riprendere e riascoltare anche quella puntata che troverai nella descrizione del podcast per riascoltare le puntate che ti andrò a ripercorrere collegati a suncloud.com slash fposati o iscriviti al podcast in itunes se sei utente apple basta entrare nello store o nell'app presente di default su tutti i dispositivi apple noterai che le successive puntate dalla 18 in poi un deciso miglioramento perché format ha raggiunto un suo standard definitivo ma soprattutto perché ha migliorato l'ascolto grazie alle sapienti mani e alle competenze di marco pennacchini che sta curando appunto il sound marco ha reso il podcast nato per caso durante le feste di natale del 2015 più radiofonico in aggiunta marco è anche la voce di apertura e di chiusura delle puntate grazie alla professionalità maturata con ormai 20 anni di esperienza nel mondo radiofonico e del doppiaggio cura inoltre la rubrica interna al podcast pct digitale la pillola sul mondo digitale l'avvocato tecnologico è protagonista della grande rivoluzione digitale il mondo è cambiato e non possiamo più permetterci di mantenere processi di lavoro passati oggi poi la società ci richiede nuove competenze specifiche anche nel settore giuridico legale non basta più lo studio della norma di questo ne ho parlato proprio nella puntata 27 le sette skills degli avvocati tecnologici anche perché cambieranno i clienti i millenials che saranno protagonisti della società prossima giovani nati tra gli anni 80 e i 2000 che saranno il volto nuovo della società con cui gli avvocati tecnologici si dovranno confrontare per rimanere sul mercato nella puntata 25 i millenials i futuri clienti degli avvocati tecnologici ho descritto i loro tratti distintivi il digitale cambia la professione il digitale cambia la comunicazione infatti di fronte clienti sempre più nativi digitale gli avvocati sembrano ancora resti ad aprirsi al nuovo nella puntata 26 gli avvocati cadono nella rete ho parlato del rapporto avvocati web sembra strano ma oggi gli avvocati basano ancora la loro promozione e la loro pubblicità con il passaparola questo è emerso nell'ultima ricerca census le professioni in italia una ricchezza per l'europa indagini sui professionisti italiani non solo comunicare per convincere per persuadere ma anche comunicare per capirsi e condividere nella puntata 18 la comunicazione digitale degli avvocati tecnologici ho parlato della comunicazione professionale di fronte alla rivoluzione di internet nella puntata potrei ascoltare anche l'intervento di mario alberto catarozzo il mondo di internet sta cambiando in maniera radicale repentina se noi prendiamo in considerazione l'ultimo decennio gli ultimi dieci anni abbiamo avuto una vera e propria esplosione di questo fenomeno che rappresenta in tutto il mondo quindi anche in italia lo strumento tecnologico di comunicazione più avanzato sempre di comunicazione ho parlato nella puntata 29 5 motivi per sostituire la mail con l'insta messaging la puntata 30 scrivimi fermo telegram il futuro della comunicazione professionale e la puntata 33 14 domande per scoprire insieme telegram la comunicazione sta diventando sempre più volatile e istantanea fluide di messaggi intasano i nostri smartphone anzi appare noie sulle doppie spunte del messaggio che è stato consegnato ma che il nostro destinatario non ancora letto i gruppi di whatsapp con 10.000 notifiche al secondo avvisi continui su ogni dispositivo ma non solo a livello personale ma anche sul lavoro e nella pubblica amministrazione l'insta messaging sta incidendo profondamente e sicuramente nel futuro prossimo vedremo che le mail oggi lo standard di comunicazione per eccellenza sul lavoro e a livello personale cadrà sempre più in disuso rispetto all'insta messaging perché è troppo lento per una comunicazione diretta via whatsapp telegram messenger o live chat ce ne rendiamo conto nel processo di creazione di una mail rispetto al minimo di un messaggio istantaneo devi aprire una nuova conversazione specificare l'indirizzo scrivere l'oggetto pensare a come spiegare il contenuto della mail che stai scrivendo allegare gli eventuali documenti o link per i file pesanti salutare firmare e inviare anche dallo smartphone devi seguire un processo simile minuti per le mail nella sua elaborazione contro i secondi di una chat nella puntata 29 ho fornito anche cinque buoni motivi per integrare nel tuo piano di comunicazione vista messaging nelle successive puntate la 30 e la 33 andate in onda quest'estate ho presentato telegram e ho allestato i suoi grandi vantaggi che ha rispetto alla app di messaggistica diretta soprattutto perché telegram è attenta alla privacy e alla sicurezza temi questi che un avvocato tecnologico non può tralasciare ma prima di continuare nel ricordare le precedenti puntate è ora il momento di ascoltare marco con pct digitale la sua pillola del buon umore digitale scopriamo insieme cosa ci racconterà a te marco ignorare le chat di gruppo silenziose quelle di cui si è scelto di disattivare per un certo periodo le notifiche sarà sempre più difficile whatsapp infatti ha introdotto una novità per telefoni android e phone che prevede la possibilità di citare un contatto all'interno di una conversazione di gruppo facendo arrivare all'utente la notifica di quel messaggio anche se la chat è stata silenziata per farlo basta utilizzare la chiocciola come si fa già con facebook e twitter la mossa potrebbe essere l'anticamera per un'ulteriore trasformazione del servizio ovvero l'apertura ai super gruppi come quelli di telegram aperti contemporaneamente a 5000 contatti la citazione di utenti specifici potrebbe risultare così un antitodo alla dispersione per ora il limite dei gruppi di whatsapp è di 256 persone grazie marco per questa nuova pillola sempre interessante e stimolante riprendiamo con la seconda parte della puntata nel ripercorrere insieme le passate puntate dalla 18 alla 34 stai ascoltando pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici a chiusura della prima parte ti ho detto che il futuro prossimo della comunicazione sarà la messaggistica istantanea ma il presente rimane ancora la mail nell'ultima puntata alla 34 la sicurezza ai tempi della mail ti ho condiviso alcuni suggerimenti per impostare la sicurezza informatica nella tua mail sempre più ricettacolo di virus e malware anche per non incorrere in pesanti sanzioni per l'omessa applicazione delle misure minime di sicurezza che tu avvocato tecnologico devi adottare non solo di lavoro e di responsabilità ho parlato in questi mesi ma anche di vacanze e ferie ascolta la puntata 31 d'agosto tribunale mio non ti conosco dove ho parlato del lontano ricordo del posto fisso e delle ferie lontane dal lavoro la mobilità caratterizza sempre più il lavoro e la società e le nuove tecnologie ci danno la possibilità di portare sempre con noi lo studio in tasca scoprendo anche il nostro tempo condividere collaborare e cooperare questi sono i nuovi verbi per l'avvocato tecnologico il tempo la mobilità e le nuove ricchezze nell'era dello smart working se ancora però non ti senti pronto per essere un nomade digitale o uno smart worker allora nella puntata 32 10 consigli per entrare dalle ferie ed essere più produttivi sul lavoro ti ho condiviso 10 consigli 5 dedicati alla tua persona e 5 consigli dedicati alla tua attività professionale che ti consentono appunto di superare il profondo blues lo stress da rientro sei altri suggerimenti condividimi che potrebbero essere utili per l'estate prossima e in tema di processo telematico nella puntata 22 ascolta michele gorga che ci introduce al processo telematico dall'origine allo speed nella puntata 19 ho ripreso l'intervento al forum piatti francesco cottoni sul futuro del processo civile telematico nella puntata 21 valentina carollo fa una quadratura al cerchio del processo civile telematico lato avvocati e ci evidenza quali sono ancora le criticità e le questioni rimaste in sospeso nella puntata 20 in ispisano ci riporta le novità del processo amministrativo telematico e nella puntata 23 isabella maria stoppani inulsa gli aspetti operativi del pat intervenute anche loro al forum pià 2016 di maggio scorso altro tema dedicato ma dove ancora non vi è piena consapevolezza è la conservazione digitale nicola savino amministratore di simsolution ed esperti in materia interviene nella puntata 28 momento conservare sempre le basi della conservazione digitale che ci introduce alla conservazione digitale di fronte al processo irreversibile della digitalizzazione e dello scambio di documenti digitali a valore legale l'articolo 43 del codice di amministrazione digitale ci dice appunto come si conserva un documento informatico che evidentemente deve rispettare delle regole tecniche termine qui questa puntata in cui ho ripercorso le precedenti puntate dalla 18 alla 34 le potrai ascoltare appunto come ti ho detto anche all'inizio su stancloud.com slash fosadio o su iTunes oppure su avvocatotecnologico.it sezione podcast lascia un commento per farmi conoscere le tue opinioni i tuoi suggerimenti se hai altri consigli o esperienze da condividere mi puoi contattare su telegram alla user fosati oppure tramite la mail me chiocciola francesco posati.it lascia anche una recensione a 5 stelle al podcast se sei un utente iTunes troverai il tutorial che ti guida passo passo se invece non hai iTunes condivido tra i tuoi contatti social per far conoscere il podcast è gradito un tuo contributo alla messa in onda tramite la pagina paypal.me slash fosati slash 5 o alla pagina patreon.com slash fposati in crowdfunding non smettere di seguirci ci aspettano ancora tante novità nei mesi a venire ti ricordo che viviamo il futuro digitale al prossimo appuntamento segui pct facile su avvocatotecnologico.it e su telegram contatta l'autore francesco posati per suggerimenti richieste su telegram.me slash fposati o scrivi a me chiocciola francesco posati.it sostieni il podcast tramite paypal.me slash fposati slash 5 o in crowdfunding su patreon.com slash fposati